Vabbè, l'Olevole Abbate risponde, naturalmente potevano anche esserci cose un po' più calde. Il problema qual è? Dice Abbate. La preoccupazione di alcuni partiti per quanto riguarda le province è che magari non avranno delle rappresentanze. La democrazia cristiana che esce fuori da questo convegno, da questo congresso con grande successo, invece si propone di essere addirittura leader. Ma dobbiamo registrare anche gli interventi, per esempio, del sindaco di Ragusa che chiede a gran voce che vengono rifatte le province perché certe cose si devono fare in ambito supercomunale e che quindi non si può permettere di lasciare un comune per i fatti suoi e c'è anche l'intervento del senatore Salemi che dice speriamo che si ricomponga tutto alla regione, ma lì ci sono guai grossi a dire la verità. Allora, cambiamo argomento e vi faccio vedere un'altra intervista perché oggi tema principale è stato, abbiamo sentito interventi anche a livello nazionale da parte di Confcommercio, il tema principale è proprio questa crisi del commercio di prossimità, dei nostri negozi, diciamo tutto aggiovamento dell'online e dei centri commerciali. Ora io dico, ce l'aspettavamo una cosa del genere, le leggi sono del 99, manco esisteva internet, ma qualcosa si può fare? Allora io ho chiesto all'amico presidente di Confcommercio di Vittoria di spiegarmi un po' Gregorio Lenzo, di spiegarmi un po', lui è stato incaricato di affrontare questo argomento da Confcommercio, è stato un po' diciamo di spiegare cosa si potrebbe fare. Vediamo l'intervista.